I fondi promessi a Di Primio per le elezioni 2015 su queste accuse si muove il filone dell'inchiesta che riguarda il primo cittadino di Chieti, un imprenditore e l'autorità dei bacini di rilievo d'Abruzzo, tutti iscritti nel registro degli indagati. Da un lato ci sarebbe Enzo Perilli, in qualità di legale rappresentante della società H di Roma, interessato all'intervento edilizio di Megalot 3, dall'altro il sindaco Di Primio. Secondo quanto emerso nelle indagini, Enzo Perilli, per superare una serie di ostacoli che impedivano la realizzazione della struttura, come quello del rischio idraulico, avrebbe fatto ricevere all'autorità dei bacini di rilievo Michele Colistro una carta di credito ricaricabile, la possibilità di utilizzare un immobile a Montesilvano e la concessione di incarichi a titolo oneroso. Il sindaco Umberto Di Primio invece, per permettere la realizzazione del progetto imprenditoriale, si sarebbe impegnato a far ottenere i permessi per costruire, promuovendo inoltre e votando favorevolmente una delibera di giunta. In cambio avrebbe ottenuto la promessa di sostegno economico per la campagna elettorale per le elezioni 2015 e la promessa di un sostegno economico per le sue pendenze debitorie. Alle 6 di questa mattina gli uomini della polizia hanno eseguito una perquisizione a casa del primo cittadino, che ha commentato così l'accaduto. Mi è stato notificato un avviso di garanzia, c'è stata una perquisizione, un sequestro. Io ho messo a disposizione della magistratura, attraverso la polizia giudiziaria, tutti i documenti e tutto quello che poteva essere loro utile per le indagini che stanno conducendo. Adesso aspettiamo chiaramente di capire che cosa è successo. Certo è che io nulla centro con la vicenda legata ai rifiuti speciali di cui si parla. Ho letto gli articoli che sono già apparsi e sono certo che per quello che riguarda invece il comune per il quale io sarei coinvolto non ho fatto nulla che possa dirsi al di là della legge o contro la legge. Sono tranquillissimo.